E' un po' l'emblema del pineto attuale. Emilio Volpicelli a Rimini ha segnato il suo undicesimo gol, in pratica la metà dei 23 realizzati sinora dalla squadra in campionato. Il calcio si sa è un gioco prettamente collettivo, ma i numeri, se non dicono tutto, spiegano che il giocatore è sempre più indispensabile nell'economia del gioco voluto dal tecnico Amaulo. Facendo tutti questi gol in merito anche dei miei compagni di squadra che mi aiutano a realizzare tutti i gol. Un onore quello di essere il capo cannoniere di questa squadra, ma anche un onere? Sinceramente non penso a me stesso, non penso ai gol, spero sempre di portare punti alla squadra, poi al di là di chi fa gol va bene lo stesso. Quindi non penso solo a me stesso, ma penso al bene della squadra. Senti, scorrendo un po' le tue cifre dei campionati passati, la tua stagione migliore con la maglia della Viterbese, 14 gol, sei molto vicino. Sì, quella di Viterbo è stata la seconda stagione di 14 gol, perché anche l'anno prima a Matelica avevo fatto 14 gol. Sì, ti ripeto, non ci penso, spero sempre che i miei gol portano punti al pineto. E allora dimmi qual è stato il gol più bello di quelli realizzati, degli undici? Penso quello col Gubbio in casa, che è stato uno dei più belli che ho fatto. Ora c'è il Pescara. Sì, sappiamo di affrontare una squadra forte, in fiducia, dobbiamo stare uniti, essere concentrati dal primo all'ultimo minuto, con umiltà e cercare di portare a casa quanti più punti possibili. Come la state preparando questa partita all'andata? Comunque avete giocato a viso aperto per larghi tratti, però magari concedere troppo spazio, troppo campo al Pescara può essere anche pericoloso. Come interpretarla? Noi all'andata abbiamo preparato, come hai detto tu, a viso aperto. Poi è normale che concedi, quando affronti delle squadre di genere a viso aperto è normale che concedi qualcosina. Però sommando in quell'occasione siamo stati bravi a portare la vittoria a nostro favore. Adesso stiamo preparando come sempre, giorno dopo giorno. Sappiamo di affrontare, ripeto, una squadra forte e ce la giochiamo con le nostre carte. Grazie a tutti.